Basta scappare Riposa ora Più brutti sono e più rumore fanno cadendo Giusto? No! Eh dai! Eccoti, ti abbiamo trovato Via Spetro! Che succede Osiride? Forza via da lì Spetro! La fine ultima prende forma Sta creando il collegamento Finalmente Distruggilo! Non Che cosa è successo? Abbiamo appena perso Zavala Ti ascolto Ti ascolto Che cosa è successo? Che cosa è successo? Ti ascolto